Ogni giorno la cronaca ci consegna notizie di giovani adolescenti che vengono profanati nel giro della prostituzione, ragazze della società apparentemente normale, figlie di famiglie normali che impiegano il loro tempo, le loro serate per prostituirsi, per portare a casa dei soldi, un fenomeno che ormai ci racconta lo scandalo che viene raccontato dalla cronaca, sta invadendo il paese. Certo ci sarebbero da fare tante considerazioni, mi viene prima di tutto una considerazione, mi perdonino le famiglie, ma quando un figlio o una figlia viene a casa tardi nella notte, è assente nei fine settimana e ti viene a casa con le borsette da 1000 euro, ti viene a casa con tanti soldi, vedi che ha la possibilità di comprare vestiti e quant'altro, ci domandiamo, ma quei genitori qualche punto interrogativo non se lo pongono. C'è però una considerazione amara più profonda, perché gli adolescenti decidono di prostituirsi, maschi e femmine, perché decidono di prostituirsi? Ma io credo che le cause siano tante, una prima causa è certamente che oggi le nuove generazioni hanno imparato che sono i soldi che risolvono i problemi della vita, se tu hai i soldi stai bene, se non li hai non stai bene, questa è la logica della felicità che abbiamo insegnato alle nuove generazioni. A questa aggiungerei anche una certa responsabilità dei media, della televisione, perché oggi basta andare su un'isola, basta andare in un ambiente da grande fratello, comportarsi come l'istinto ti suggerisce e questo se avrai fortuna ti garantirà una carriera, senza considerare la stupidità di quei genitori che sessualizzano il linguaggio e la cultura dei loro bambini cominciando a dire a 3-4 anni, ma tu ce l'hai il fidanzato, ma tu ce l'hai la fidanzata, sciocchi i genitori, un bambino a quell'età non ha in mente le fidanzate, siamo noi che le mettiamo nella loro mente creando dei disturbi che poi li paghiamo successivamente.